E bravo a tutti mozzarelloni, io sono Cipo e questo è un video vlog molto serio che mi invito anche a guardare Allora ragazzi sarò breve, sarò chiaro e vi dirò tutto quanto Questo per me non è un momento facilissimo e non vi sto neanche a spiegare perché Quello che sto andando a dire io in questo vlog, in questo vlog molto semplice E' che diciamo che ho intenzione di prendermi una pausa Una pausa da youtube e dalla vita in generale Ho infatti deciso di stoppare, togliermi alcuni pensieri appunto che ho Per appunto magari risolvere altri problemi e quindi ritornare alla tranquillità di una volta Ma proprio per questo appunto sono qua, come da titolo, a dirvi che ho deciso di prendermi una pausa Una pausa che durerà un mese, due mesi, non lo so Penso che comunque durerà tipo uno o due settimane, forse anche di più vedrò adesso a Natale Perché, come ho già detto, voglio tornermi alcuni pensieri E youtube per me ormai sta diventando un pensiero abbastanza grande Perché appunto fare video costantemente è proprio un pensiero e più che altro non è tanto passione E appunto pensiero è volontà diciamo Tutta questa volontà comunque richiede energie Energie che a me servono in alto, per la scuola e per molto altro E quindi non posso permettermi di sprecare questo tipo di energie per youtube Quindi ragazzi questo semplice vlog è tutto Io molto probabilmente andrò al Torino Comics e ci registrerò qualcosa ovviamente E appunto cercherò di fare un after movie del genere Però oltre a quello non so se usciranno altri video A Natale, verso Natale vedo se riesco a fare la serie su Half-Life 2 E se va bene la continuo, altrimenti non si fa più nulla E quindi ragazzi, questo semplice vlog finisce qua E io vi spero che questa pausa comunque riuscite a capirla Perché comunque anch'io sono un essere umano Anch'io ho bisogno dei miei tempi e delle mie energie Comunque, e che dire, ci vediamo con il prossimo video Spero il prima possibile E che dire, ci vediamo con il prossimo video Già detto, bye bye Ciao